Materializzazioni improvvise Bottoni fantasma Nell'ottobre del 1993 un inglese, Bill Harrison, ha trovato nella propria casa a Blackford alcuni oggetti materializzati, visto che la casa era chiusa e vuota. Era protetta anche da un'allarme, prima che apparve da nulla, un grande candeliere e dottone sopra il camminetto, poi seguito da uno strano urbinetto, una grande campanella e infine una decina di palle di cannone, che secondo alcuni esperti erano degli oggetti cari al precedente defunto proprietario.